Amico, amico aiuto Scusami, sto cercando un uomo Chi? Il falegname della Galilea, si chiama Gesù Che cosa vuoi da lui? Metterlo in guardia, sono uno schiavo come te Non sei molto astuto tu, spia romana Tu, tu, firmati Tu, firmati Cerco il falegname della Galilea Chi? Quello che chiamano il Messia Ma hai sentito nominare? Chi? 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 Buono? vuoi aiutarmi sto cercando un uomo un uomo come si chiama gesù è in pericolo arrivi tardi a quest'ora davanti a pilato l'hanno trovato qualcuno l'ha tradito uno che amava in cui fidava un suo discepolo che sedeva la sua sinistra perché perché gli uomini sono deboli perché sono preda dell'invidia e della codardia perché inseguono la verità e quando la trovano la ripudiano dubitano dubitano i pazzi perché l'uomo tradirà se stesso con il dubbio dillo agli altri trovali e di loro di non dubitare neanche ora che non dubitino di che conservino la loro fede che conservino la loro fede aspetta a chi lo dico chi sei tu il mio nome è giuda grazie a tutti